Ben ritrovati a questa edizione del TG Sampdoria. Il giorno dopo la rovinosa sconfitta casalinga con la Fiorentina a poche ore dalla trasferta a Torino contro i Granata. Vediamo con l'ausilio della nostra grafica quello che di poco c'è da salvare di questa ennesima sconfitta della Samp. Audero, Augello e Caputo si sono guadagnati la sufficienza particolarmente negativa al rendimento di Leris che sarà anche squalificato nella prossima gara. Vigliar, ma anche il tecnico Stankovic che non è riuscito a dare quella scossa emotiva che ci si aspettava alla squadra sul piano del temperamento. E i tornelli di cui parleremo dopo per un'altra situazione incresciosa che si è verificata allo stadio. Ma andiamo a sentire l'analisi di Sampdoria Fiorentina dalle parole del nostro opinionista Francesco Flacchi. Stankovic sta cercando di provarle tutte. Sta mettendo anche delle volte dei giocatori in delle situazioni che possa rischiare a livello offensivo. Però se non li fa giocare, li giocati da chi arrivano. Se mettiamo una squadra di corsa già si fa fatica a creare le azioni. Se metto una squadra di corsa di quantità, chi le crea le azioni? Io, a prescindere all'allenatore, però in campo vanno i giocatori. Quello che mi sembra di questa squadra, non vedo quella squadra cattiva che voglia raggiungere un risultato determinato, con la cattiveria, con l'approccio giusto. Vedo le altre squadre. È vero che la Sampdoria non è inferiore alle altre squadre perché ce n'è a nomi. Però il problema è che le altre squadre quando giocano, poi possono essere... Però li vedi con un approccio diverso, lo vedi con una determinazione. E nella gara con la Fiorentina c'è stato anche un episodio controverso. L'uscita di Terracciano, portiere viola, qualcuno è parsa fuori area con il pallone tra le mani. Ma ci ha spiegato tutto questo contributo. Graziano Cesari. Primo tempo di Sampdoria-Fiorentina. Un giallo. Terracciano, sorpassato dal pallone, il rimbalzo lo tradisce, poi lo riprende. Dentro o fuori dall'area di rigore? È punibile oppure no? Ci vuole qualche secondo, forse qualche secondo in più, qualche minuto per decidere che cosa. Se il pallone, almeno una porzione del pallone, è sulla linea estrema dell'area di rigore. In quel caso non c'è altro nessuna sanzione. Nel caso in cui invece il pallone si è interamente fuori dalle linee perimetrali dell'area di rigore, il potere dovrebbe essere espulso. Fortunatamente il VAR, immaginate dimensionale, cosa fa? Ci dà una certezza. Che Terracciano è molto fortunato. Perché riesce a cogliere proprio quel momento corretto in cui il pallone ha la proiezione sulla riga dell'area di rigore. Fortunato? Sicuramente sì. Varserbe? Sicuramente sì. Beh, in questo caso la Fiorentina ha evitato l'espulsione del portiere. Ma torniamo ai protagonisti negativo della sfida, ovvero i calciatori blucerchiati. Sentiamo Tommaso Augello. Sicuramente il primo tempo abbiamo giocato alla pari della Fiorentina. Dal punto di vista di determinazione, carattere, voglia, abbiamo dato il massimo. Purtroppo abbiamo preso il gol subito, ma quello non ci ha cambiato la partita. Penso che l'episodio chiave sia stato il secondo gol in inizio di ripresa, perché eravamo rientrati come abbiamo finito il primo tempo, per cui con la volontà di poterli riaprire. Purtroppo invece il secondo gol ci ha un po' tagliato le gambe e non siamo poi più stati bravi a provare a reagire e a riportare la partita magari sul 2-1. Quel gol lì ci ha veramente cambiato la partita e non va bene, perché a 40 minuti alla fine sul 2-0 non è finita la partita. Invece purtroppo abbiamo lasciato poi il pallino del gioco a loro. È stato difficile. Sicuramente noi ci alleniamo su tutte le situazioni, anche su quelle palle inattive. Dovevamo fare meglio in quella situazione, è stato bravo anche Milenkovic a far gol. La squadra ha le possibilità per uscire da questa situazione, sono sicuro, perché ha giocatori di qualità, comunque secondo il mio punto di vista è una buona squadra, per cui dobbiamo e possiamo fare sicuramente meglio. Queste due partite sono importantissime perché poi c'è una lunga sosta e quindi ti rimangono quelle dentro. Per cui dobbiamo fare assolutamente punti in queste due per essere poi competitivi nel giro nella parte più avanti del campionato. Ripresa immediata degli allenamenti per la Samp, purtroppo brutte notizie per il giovane Amione che si è fratturato il naso, è ricoverato alla Montallegro, indisponibili ovviamente ancora Wings, De Luca e Leris che è squalificato da valutare Sabiri. Ma vediamo anche le immagini delle cose ai tornelli che si sono formate in occasione della partita con la Fiorentina. In precedenza era già accaduto anche durante Genoa-Brescia, evidentemente ci sono dei malfunzionamenti, dei disservizi e alcuni tifosi entrano all'interno dello stadio. A partita già iniziata qualcuno addirittura al 25esimo del primo tempo. Pare che nessuno abbia ancora avvisato il Comune, che comunque è proprietario dell'impianto di Marassi, di questa incresciosa situazione che ci auguriamo possa essere risolta. Sul nostro sito primocanale.it l'inchiesta sul Ferrari, su un aggiornamento anche su quanto vi abbiamo raccontato. In chiusura l'unica consolazione che ha la Sant'Ore in questo momento, i suoi tifosi, perché in un momento difficile la FederClub si ha lanciato volutamente la campagna di affiliazione al 2022-2023 con l'appello a non far mancare ovviamente il sostegno alla propria squadra ad avere un club in ogni quartiere della città, oltre a quelli sparsi per la Liguria, per l'Italia e per il mondo. Da ricordare che Torino-Sandoria sarà arbitrata da massa di Imperia con Abbattista al VAR. Era questa l'ultima notizia del TG Sandoria da parte di Maurizio Michieli. Grazie di averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti.